Buongiorno, benvenuti a questa diretta di oggi 29 aprile. La zuppa di porro di oggi ha delle cose molto divertenti oggi dette sui giornali. Innanzitutto è successo qualche cosa perché ci sono state le elezioni in Spagna. In realtà i giornali hanno già dato qualche elemento di quello che è successo in Spagna, anche se non nel dettaglio. Devo dire che la situazione è molto semplice. Quello che è successo è che i socialisti hanno vinto ma non hanno la maggioranza necessaria, lo dice Concittà e De Gregorio che si esercita sulla Repubblica, è un po' il suo tema, lo dice Cazzullo che è stato spedito in Spagna sul Corriere della Sera, ma lo dice secondo me molto più interessante oggi Gervasoni sul Messaggero che cosa sta succedendo in una Spagna in cui il punto centrale è il tentativo di secessione fatto in Catalogna, intorno alla quale si è creato tutto il gran caos di queste elezioni e questa frammentazione, come dice Gervasoni, benvenuti nell'Europa frammentata. Quindi hanno sì vinto i socialisti ma devono fare un'alleanza con alleati di sinistra, tra cui un alleato, questo che a me stupisce sempre perché il dato fondamentale oggi per i giornali è un po' lo scampato pericolo, un po' invece, come possiamo dire, lo stupore, il singhiozzo perché Vox, cioè un partito di destra franchista, questo sì franchista, cioè c'è poco da inventarsi cose diverse, abbia superato o intorno al 10% abbia raggiunto per la prima volta il Parlamento spagnolo, insomma tutti si lamentano ovviamente della posizione franchista, meno si lamentano della posizione di Glesias e della sua fidanzata, della partavoce, scusatemi, del portito Podemos che ha ricevuto i soldi da Maduro che non mi sembra che sia, direi che forse è un franco moderno, forse anche meno, diciamo, gradevole visto come ha ridotto il Venezuela che non era l'ultimo dei paesi del Sud America, ma comunque sia, questo è un ragionamento residuale. La vera questione quindi è che il governo sarà molto difficile, è che tutti quanti, per esempio Repubblica, il titolone, i socialisti ce la fanno, insomma sono tutti contenti di questa vittoria socialista tinto di rosso, i problemi ci sono e come e rimangono, in realtà poi ci sono le elezioni siciliane, i giornali non ne hanno molto conto, ma lì succedono varie cose, la Lega va da sola e si separa dal centro-destra e qualche volta il centro-destra addirittura fa alleanze col PD, insomma un'alleanza un po' incredibile che almeno a mio modo di vedere, ma che in Sicilia tutto si riesce a vedere, pure Forza Italia con il PD che peraltro ovviamente vincono o più o meno vanno al ballottaggio. Di Maio sulla questione Siri dice ultimatum si deve dimettere, non può restare, ma queste benedette intercettazioni anche oggi quelle che avrebbero dovuto dimostrare la pistola fumante dei 30 mila Euro pagati non ci sono. Cristian dice se magari il 10% di spagnoli preferisce Franco a quello che c'è ora sarebbe da farsi due domande, dice giustamente uno dei nostri ascoltatori sulla zuppa di Facebook. Io poi oggi vi segnalo e voglio condividere con voi il motivo per il quale probabilmente a tanti miei colleghi non sto simpatico e ve la devo dire con grandissima franchezza questa vicenda e quindi non bisogna piagnucolare poi non so se non ti fanno l'intervista, se i tuoi programmi non vengono, cioè è così, la vita è fatta così e quindi o sto zitto o non sto zitto e non riesco a tenermelo qua. Ma se la stampa, la stampa di Torino, la stampa di Torino, so che sto antipatico adesso ovviamente inevitabilmente ai miei colleghi, titola a tutta pagina, a tutta pagina, PD, virgola, Del Rio apre alla linea di Maio, ripeto, il titolo oggi della stampa è PD, Del Rio apre alla linea di Maio, secondo me un po' non si sono resi conto di che cosa parla la gente, cioè a me non me ne frega niente, quasi non sappiamo più chi è Del Rio, sì è una segretaria del PD, penso che sia una segretaria del PD, apre alla linea del Maio, è una delle ennesime dichiarazioni, dei retroscena, della politica eccetera, ma come cavolo facciamo a vendere i giornali se il titolo della stampa è PD, Del Rio apre alla linea di Di Maio, devo sapere che c'è il PD, e questo lo so, devo sapere chi è Del Rio, devo capire che è importante Del Rio, devo capire qual è la linea di Di Maio, qual è la linea di Di Maio, ma io ho stato straordinario, per quello forse, sì qualcuno dice peggio per loro, non sei simpatico agli altri tuoi colleghi perché sei, non sono simpatico perché dico queste robe un po' presuntuose, mi rendo conto, magari anche questa zuppa la potrei fare meglio, certamente la dovrei far meglio, ma sono sicuro che se questa zuppa la farei, il titolando PD di Rio apre alle urne di Di Maio, voi, via alla velocità della luce, Tridico, l'economista comunista, ricordatelo, Tridico comunista, Tridico comunista, diciamolo tutti insieme, Tridico comunista, è il giovane economista quarantenne che insegnava economia marxista, che è diventato l'assistente di Di Maio, quello sì, c'è una linea comunista, e oggi è presidente dell'Ibs, è l'inventore insieme a un signore del Mississippi, un fantastico mimmo Parisi del reddito di cittadinanza, oggi è intervistato dai suoi amici del Fatto quotidiano e dice, questo è il titolo, il reddito è un record, siamo a due milioni di poveri in due mesi, e anche qua cavolo mi viene da dire, ma come siamo a due milioni di poveri in due mesi tutti compiaciuti? Sembra che li abbiamo creati due milioni di poveri, uno dovrebbe piangere se dicesse una cosa di questo tipo, in realtà è chiaro quello che vogliono dire, qui c'è un gioco delle parti e l'intervista è molto interessante, a differenza del titolo della stampa, siamo a due milioni di poveri, vuol dire che loro stanno aiutando due milioni di poveri, l'assegno medio è di 520 Euro e non va solo al sud, insomma tutta una serie di cose in cui Tridico ci spiega questa manovra straordinaria elettorale compiuta dal Movimento 5 Stelle, su cui questa sera a Quarta Repubblica parleremo, perché riuscire a dare a due milioni di poveri il reddito di cittadinanza è esattamente quello che abbiamo fatto con il REI, anche se in misura un po' superiore, ma poi vedremo che ci sono tantissimi quarantisti, cioè gente che prende solo 40 Euro, ma il punto fondamentale è che loro ci avevano raccontato che non stavano sul divano, ma invece ci sono i navigator, i centri dell'impiego sono pronti, quando noi gli dicevamo che i centri dell'impiego non erano in grado, loro zitti, ma come, contestano eccetera, e ancora i patti per il lavoro ci sono, ma ancora i sindaci stanno facendo, come si chiamano, tutti quei lavori utili che devono essere collegati, vi ricordate, devono lavorare anche per i sindaci, e poi mi chiedo se uno prende un assegno di 40 Euro, ci sono 70-80 mila persone che prendono questo assegno da 40 Euro al mese, tu hai un assegno da 40 Euro e devi lavorare per i comuni 30 Euro alla settimana, quindi ti pagano un Euro ora, non so, un Euro e mezzo all'ora, loro che vogliono il salone minimo, insomma c'è una serie di contraddizioni sulla seconda parte del reddito di citenanza, quindi resta soltanto quello che è, il problema che a Tridico è difficile dirglielo, e cioè che è un reddito di assistenza, il quotidiano nazionale sul reddito di citenanza dice boom di stranieri, 116 mila, fantastico oggi il messaggero che ha un piccolo scoop, dice ci sono 33.500 auto blu, non sono riusciti a ridorle le auto blu, anche chi se ne frega, ma la cosa più importante è che questo rapporto resta la funzione pubblica per chi non lo pubblicano, il governo giallo-verde aumenta le auto blu, ma non lo dice, e quindi se non lo dice non c'è nessuno scandalo. Bello, bellissimo lo scoop oggi di Luca Fazzo e del giornale su cui apre il giornale, Mimmo Lucano, ricordate il signore che aveva quel modello stupendo in Calabria di integrazione degli immigrati che gli faceva sposare pur di venire in Italia, che gli faceva le cooperative senza appalti, non rubava probabilmente nulla, ma rubava soldi dei cittadini italiani perché lì arrivavano milioni e milioni di euro per il suo modello cosiddetto perfetto, che piace tanto al mio amico Vittorio Sgarbi, ebbene Mimmo Lucano aveva una talpa in procura e venivano intercettati, Mimmo Lucano e questo magistrato talpa in procura, venivano intercettati e il magistrato lo consigliava di come comportarsi, di come fare le conferenze stampa e di come ad esempio rispondere a quel virgolette virgolette di Gratteri, che è uno dei grandi magistrati antimafia, quindi insomma un magistrato di magistratura democratica contro altri magistrati a favore di uno che fino a prova contraria è stato indagato, inquisito, arrestato, ovviamente i magistrati, cane non mangia cane e questo magistrato intercettato che parlava con Lucano è stato archiviato anche se ridarguito nella nota di archiviazione, comportamenti non corretti per la sua funzione, tutte palle, continuerà a fare il magistrato verso la corte d'appello di Catanzaro, ma il punto fondamentale è un altro, un magistrato che dà i consigli a Mimmo Lucano su come comportarsi dopo che è stato arrestato e come evitare di fare gaffe che parla male di Gratteri, quel magistrato è lo stesso magistrato che deve decidere su il rinvii a giudizio, sulle esecuzioni, sugli arresti degli immigrati, che deve decidere se tenerli in galera o non tenerli in galera, se dargli il decreto di asilo o non dargli il decreto d'asilo, non so come dire, la struttura di una magistratura democratica che fa le manifestazioni nei tempi sic e che manifesta contro le politiche migratorie di Salvini è la stessa che aiuta a Lucano è la stessa che ci dovrebbe tutelare da un'immigrazione che però non si riesce a capire quanto sia clandestina, oggi se ne occupa anche il foglio, 500.000 e 90.000 e io questa è stata una cosa allucinante caro Salvini, tu sei bravo, simpatico e parli bene, ma tu non puoi fino a un mese fa dirmi che c'era un'emergenza di immigrazione con 500.000 immigrati incontrollabili e oggi sono diventati 90.000, perché se oggi sono diventati 90.000 non c'è più l'emergenza di ieri, c'è una situazione da tenere sotto controllo ma non un'emergenza, mi devi spiegare com'è possibile da 500.000 a 90.000, ieri in un'intervista dice beh quando sono arrivato lì al ministero mi sono accorto dei numeri, ho capito e allora oggi alziamo la mano e diciamo ragazzi finita l'emergenza immigrati, non sbarcano più in Italia, questo grazie certo a Salvini, vengono rimpatriati, ma più o meno al ritmo di 2.000 all'anno, 3.000 all'anno, pochissimi, ma vengono rimpatriati, scusatemi 7.000 all'anno più o meno, ma non c'è più l'emergenza immigrati, parliamo di altro, parliamo dell'economia che fa cagare in Italia più che quello, oggi il sole 24 ore in prima pagina ci dice che le tasse sulle case, le tasse sulla case sono in Italia, rendono 40 miliardi di euro, nel frattempo il Fondo Monetario Internazionale, l'Ocse, quelli che pensano bene, le agenzie di rating vorrebbero aumentare le tasse sulla case, geni totali, totali, beh poi stupendo, stupendo, ragazzi quando in forma dovete leggerlo sempre, è Giuliano Ferrara, il titolo fantastico, ho visto il mio nemico, il suo nome è Charlize Theron, quella cretina, deficiente, che ha un conduttore televisivo che ha dato un bacio sulla guancia alla traduttrice dell'intervista e lei gli ha detto un bacio casto, un bacio non volgare, un bacio che posso dare io a chiunque io incontri anche per strada, la prossima volta forse è meglio che glielo chiedi, insomma, Ferrara da questo piccolo evento, diciamo, di, come possiamo dire, di politicamente corretto, di questa cretina di Charlize Theron, tanto bella quanto cretina, beh ne fa un pezzo favoloso oggi sul foglio, in cui ci spiega da quello alla safe, la comfort zone che noi esseri umani vogliamo avere, per cui arriveremo a impedire che si tengano le messe la domenica perché si rischia un attentato, insomma, il filo rosso è molto più complicato, è molto meglio scritto, anche se sempre con la prosa di Giuliano Ferrara, ve lo consiglio, perdete un po' di tempo e leggetevelo, perché la nostra, ho visto il mio nemico e si chiama Charlize Theron di oggi. Questa sera, questa sera, questa sera c'è il ritorno di Quarta Repubblica, il caso Siri, ma bella ciao, veramente unisce gli italiani? Vedrete che con dei risultati straordinari di Mannheimer e poi ovviamente i due blocchi centrali tutti dedicati al reddito di cittadinanza, per cui in Italia non c'è più la povertà, com'è il titolo? Il reddito è un record, siamo a due milioni di poveri in due mesi, bello orgoglioso sul fatto quotidiano e domani ovviamente Matrix, con l'inaugurazione della puntata di Matrix, con il segretario del PD che ci racconterà anche che cosa è successo in Sicilia, cosa che faremo anche oggi con Tajani, perché al leader del Parlamento europeo bisognerà un po' chiedere se questa alleanza col PD per cui vincono in Sicilia è un'alleanza strana o un'alleanza che loro condividono. Bene, qualcuno mi chiede per partecipare alla autotrasmissione, scrivetemi sul mio sito nicolaporro.it se qualcuno volesse, come Vauro e Sanzonetti no, Vauro e Sanzonetti sono gli unici che vengono, perché con la murcia non lo faccio questo programma, vi è chiaro? E sono abbastanza utili per esempio per capire se a loro, bella ciao, la considerano una... ciao Mario D'Andrea, la considerano uccidi sigaretti, per carità, ma ragazzi non si dicono queste cose, siete matti? Io faccio parlare tutti con il garbo che è proprio di una trasmissione come la nostra Matrix domani e questa sera Quarta Repubblica. Ciao ciao ciao!